Buonasera, mancano ormai poco più di due settimane alle elezioni politiche 2018 in programma per il 4 marzo. Abbiamo intervistato per voi i candidati alla Camera per il Collegio Uninominale di Sassuolo del Partito Democratico, Liberi Uguali, Movimento 5 Stelle e Centrodestra. I candidati, dopo una breve presentazione, hanno annunciato i loro principali obiettivi e i cavalli di battaglia, con una particolare attenzione rivolta verso il nostro territorio. Buona visione! Nome e cognome è Claudio De Vincenti, età 69 anni, vengo da Roma e sono candidato nel Collegio Uninominale di Sassuolo per la Camera dei Deputati. Claudio, c'è sicuramente una scelta, ma anche uno studio del territorio, c'è da conoscere la gente e da conoscere quelli che sono i problemi del territorio che in parte sono già noti. Intanto io ho già avuto modo di interagire con il territorio sia del modenese sia più in generale il territorio emiliano, perché ho lavorato come sottosegretario prima e vice ministro, poi allo sviluppo economico e come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ma anche come ministro per la coesione, perché la coesione territoriale riguarda tutta Italia. Pensate per esempio al problema delle aree interne, qui c'è tutto il problema della montagna del modenese, che richiede politiche di sviluppo, politiche di ripresa di tutta l'area. Quindi su questi problemi e sui problemi dell'area ho già avuto modo di lavorare in questi anni, naturalmente però è importantissimo, sempre importantissimo, imparare dai cittadini che vivono in prima persona i loro problemi, nessuno come loro li conosce bene come loro ed è da loro che dobbiamo imparare per trovare anche insieme con loro le soluzioni che rispondono ai problemi, nessuno ha la verità in tasca, il mio lavoro, anche le mie competenze, prima come economista, poi nella mia esperienza di governo, sono al servizio dei cittadini di questo collegio, ma le soluzioni le troviamo insieme, non c'è nessuno ha la bacchetta magica e nessuno ha la pretesa di averla, la cosa più importante invece è capire insieme, costruire insieme le risposte ai problemi del territorio. Il mondo imprenditoriale che qui è molto vasto, molto prolifico, ha coniugato da oltre 25 anni una parolina che si chiama bretella. È molto importante, molto importante tutto il tema della mobilità di quest'area, c'è naturalmente il campo galliano Sassuolo, ma c'è anche la complanarina, ci sono una serie di miglioramenti della viabilità e delle infrastrutture per la mobilità che sono assolutamente urgenti, su questo abbiamo messo già in campo le risorse con i governi Renzi e Gentiloni, stiamo portando a termine anche le procedure con cui finalmente questi lavori potranno partire, questa è una priorità assoluta. Mi chiamo Diego Capponi, sono residente a San Cesare sul Panaro, sono un operaio, ho 35 anni di esperienza nei macelli industriali, conosco bene il comparto delle carni e tutte le sue problematiche e sono da sempre attivo nel sindacato fino ad oggi e sono candidato alla Camera dei Deputati per la zona di Sassuolo. Zona di Sassuolo che ha delle peculiarità, anche delle esigenze particolari proprie del territorio, tu ne sei a conoscenza di sicuro? Sì, in larga parte sì, io mi occupo molto nello specifico delle problematiche del lavoro che sono comuni comunque a tutto il territorio, come le cooperative spuie, lo sfruttamento del lavoro, gli orari selvaggi, le malattie che il lavoro provoca, quindi su quello lavoreremo, poi anche su tutte le altre tematiche come il welfare e la sanità che comunque ha delle problematiche che bisogna affrontare, cioè assolutamente. Sassuolo ha soprattutto una carenza a livello infrastrutturale, di questo ne sei a conoscenza? Assolutamente sì, ma è una carenza direi storica, perché ha un volume di produzione e di industrie talmente alto che le infrastrutture non riescono a sorgere, quindi bisognerà porre rimedio, le infrastrutture che ci sono per la maggior parte sono ferme per mancanza di fondi. Se io ti dico bretella è una cosa che riporta indietro tutti di 25 anni, che cosa dici tu? Che è ancora incompiuta, quindi bisognerà trovare il sistema di completarla. Perché ogni volta che si parla di elezioni negli ultimi 15 anni se ne comincia a parlare e poi il primo colpo di piccone, come si faceva una volta, non viene dato, secondo te? Perché è il solito specchietto per la lodore per richiamare i voti e poi dopo alla fine, in sostanza, chiuse le elezioni poi non se ne parla più e continua a passare il tempo, ma questa infrastruttura non viene mai fatta. Il vostro distinguo nella vostra lista particolare è anche un distinguo da questo modo di fare? Assolutamente sì, partendo dal presupposto che i candidati sono tutti del territorio, che lo conoscono e quindi sanno come affrontarlo, a differenza di tutti gli altri che invece mettono candidati che non sono del territorio. I candidati per prendere i voti sono comunque, in tutto l'arco costituzionale, ancora una moda? Sono una moda, assolutamente. Ed è una novità, ad esempio, candidati degli operai come me. Parlare di lavoro, il lavoro negli ultimi 20 anni non è che i governi siano stati amici del lavoro, quindi portare anche il lavoro a Roma non sarebbe male, insomma, cominciamo a parlare di queste problematiche. Ultima cosa, il vostro cavallo di battaglia per quanto riguarda il territorio rimane? Lavoro, infrastrutture, sanità, tutto quello che riguarda il territorio. Direi che queste sono le cose primarie e poi dopo andare anche a tutelare quelle che sono le fasce più deboli e più in povertà del territorio, visto che la povertà in questo territorio, nonostante che siamo in Emilia Romagna, è diffusa e non se ne parla quasi mai. Quindi questo noi andremo a affrontare sicuramente, partendo dal lavoro. Io sono Michele Dell'Orco, parlamentare uscente, ho 32 anni, mi sono occupato di trasporti in questi 5 anni, è stato un lavoro duro ma anche una bellissima esperienza. Le elezioni si avvicinano per il Movimento 5 Stelle, Michele Dell'Orco, deputato uscente. Questi ultimi anni in Parlamento, quali sono stati i traguardi più importanti che hai raggiunto in ottica anche del nostro territorio? Beh, innanzitutto io sono stato in Commissione Trasporti, quindi mi sono occupato di infrastrutture. Per sei mesi ho fatto il capogruppo alla Camera, quindi ho dovuto un po' coordinare il gruppo e tante anche cose che riguardano il territorio. Quindi penso l'avere incentivato lo Scalo Merci in Marzaglia, quindi un tema che vogliamo riprendere anche in questa campagna elettorale e soprattutto fermare le opere che noi riteniamo inutili, dove si sprecano miliardi e miliardi di euro e convogliare questi soldi per la mobilità elettrica, nuovi incentivi per gli acquisti di mezzi elettrici e anche per il trasporto pubblico locale che deficita, vediamo la Modena Sassuolo, anche qua da noi, parecchio. Essere candidato nel uninominale con questa nuova legge elettorale, se dovessi fare un pronostico, come vedi questa campagna elettorale e il voto del quattro male? Sicuramente ho la sensazione che ci potrebbero essere varie sorprese, questa volta in Emilia Romagna, anche sugli uninominali, soprattutto dopo che hanno paracadutato qua De Vincenti, Lorenzin, Sgarbi, addirittura persone che non c'entrano un accidente col territorio. Proposte legate anche in questo caso al nostro territorio, al collegio in cui sei candidato per i prossimi cinque anni, se dovessi andare in Parlamento e se la tua forza politica dovesse poi contribuire al governo del Paese. Che riguarda il territorio, penso sicuramente all'ospedale di Pavullo, garantire le nascite anche in montagna, in posti lontani e disagiati da quel punto di vista. Altra cosa è il distretto ceramico, quindi le imprese. Nel nostro programma abbiamo previsto il dimezzamento per l'IRAP, una tasso odiosa, soprattutto per le micro imprese, quelle con meno di 10 dipendenti. E poi il reddito di cittadinanza, quindi il problema della disoccupazione. Ci vogliono proposte come c'è in tutta Europa, manca solo in Italia e in Grecia, un reddito di cittadinanza che garantisca a tutti almeno 780 euro. E poi c'è il superamento della legge Fornero, che siamo gli unici a dirlo in maniera chiara e netta, puntiamo a quota 41 e quota 100. Non è possibile che una persona che fa ad esempio un lavoro usurante vada in pensione a 67 anni. Questo va superato e soprattutto serve un ricambio generazionale per far andare avanti i giovani e permettere alle persone di andare in pensione. C'è da superare un problema di coperture? Allora, coperture, intanto siamo stati gli unici ultimamente, grazie per la domanda, a presentare appunto le coperture. Ad esempio per il reddito di cittadinanza, noi pensiamo alla tassazione del gioco d'azzardo, eliminazioni di privilegi come le auto blu, vitalizze e quant'altro, e l'eliminazione, o meglio il taglio, delle pensioni d'oro. Quindi mi riferisco a quelle sopra i 5.000 euro netti al mese. Oltre a questo, ad esempio sempre coperture per la legge Fornero, che di sicuro non è gratis, verrebbero a mancare tanti soldi allo Stato, noi vogliamo riprendere lo studio fatto da Cottarelli, il commissario alla spesa pubblica che aveva già indicato a Renzi e al governo dove tagliare a partire dalle numerose partecipate che ci sono negli enti pubblici. Quindi basta solo la copia e incollare, invece il governo cosa ha fatto? Invece di tagliare le spese inutili ha eliminato il commissario straordinario Cottarelli. Chiudiamo con una nota un po' più personale. Per te sarebbe il secondo mandato in Parlamento, per il vostro regolamento l'ultimo. C'è la possibilità, nel caso di un governo, anche di un tuo impegno a livello governativo o ti piacerebbe rimanere a Montecitorio? Sicuramente mi piacerebbe occuparmi di trasporti, però per noi non è importante la poltrona. Anche se per caso non dovessi essere rieletto farò altro senza alcun problema. Noi fortunatamente abbiamo questa regola dei due mandati, quindi massimo dieci anni e poi torni a fare quello che facevi prima o comunque vai a fare altro. A noi non ci interessa la poltrona. Io mi sono avvicinato personalmente al Movimento 5 Stelle nel 2009 perché si parlava di temi concreti, si parlava di problemi locali e non si parlava di poltroni o paracadutati da Roma, come invece sta succedendo a Modena anche in questi giorni. Benedetta Fiorini, 42 anni, rappresento il centrodestra nel collegio uninominale Sassuolo. Benedetta, un volto giovane anche per il centrodestra, un volto giovane che comunque è al ridosso del territorio e si batte perché un territorio abbastanza vivo come quello di Sassuolo possa avere un rappresentante in Parlamento. Grazie per la giovane comunque. Sì, il territorio, tutto il mio collegio è un territorio difficile ed è un territorio che naturalmente vede tante eccellenze, parliamo di imprenditoria, parliamo dell'agroalimentare, parliamo della meccanica, dei motori, ed è un territorio che secondo me deve essere valorizzato molto di più e quindi uno dei miei punti principali del mio programma e soprattutto perché ci metto la faccia io in questa campagna elettorale, l'Italia deve avere un ruolo differente in Europa, un ruolo principale dove poter tutelare sia i marchi che i nostri prodotti. Una delle altre cose che possiamo dire sono il tuo cavallo di battaglia e la sicurezza, una sicurezza sulla quale non si può più transigere. Assolutamente, è uno dei motivi per cui mi sono avvicinata alla politica perché oggi la gente è stanca ed è sfinita. Si parla sempre di percezione di sicurezza e in realtà la gente ha paura oggi a volte ad uscire anche di sera o ad uscire anche nel tardo pomeriggio. Le nostre città non erano così e secondo me devono e hanno bisogno di essere ricondotte su una linea di maggiore sicurezza dove lo Stato deve essere presente e naturalmente noi dobbiamo essere vicino ai cittadini. Ultima cosa, girando per il territorio, per queste zone, c'è comunque la consapevolezza che c'è un tessuto produttivo, un tessuto economico vivo? Assolutamente, basta leggere il giornale oggi e vediamo che le nostre aziende dal comprensorio ceramico a quello meccanico stanno esportando, sono eccellenze dal punto di vista tecnologico e troviamo i nomi di queste aziende in giro per il mondo che fanno grande le miglie e quindi vanno supportati, vanno agevolati e naturalmente il punto principale del nostro programma è il punto fiscale, quindi meno tasse, meno tasse e meno tasse e una burocrazia più snella che aiuti tutti quanti, che aiuti le imprese ma anche le famiglie. C'è anche un'ultima cosa che è agganciata al tema di cui abbiamo parlato prima, cioè la sicurezza e quest'ultima cosa risponde al nome di immigrazione, regolare e irregolare. L'immigrazione oggi è un problema enorme che dobbiamo assolutamente dare come priorità per la nostra società, per la gente stessa e quindi noi dobbiamo essere molto fermi, avere delle regole rigide per chi arriva in Italia, chi vuole arrivare e chi naturalmente chiede aiuto, dobbiamo coglierlo ma ci devono essere dei punti fermi affinché queste regole non vengano disattese. Grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.